Un oggetto non identificato o lufo nei ceri del Cilento sembrerebbe proprio di sì, a meno a quello che possiamo ben vedere dalla foto postata su Facebook. L'avvistamento del disco volante sarebbe avvenuto questa mattina di oggi, il 12 marzo 2016, a Monte Colice. La foto ovviamente è diventata avviare su internet, alcuni mesi fa un altro presunto avvistamento ci sarebbe stato nella vicina San Marco di Castellabate, anche se più di una persona avrebbe pensato che si sia trattato di un fotomontaggio. Insomma, sembra che gli alieni si stanno per davvero, sembra che per l'appunto ci siano nei cieli oggetti che possiamo definire, possiamo etichettare come oggetti identificati e a volte quando si hanno questi avvistamenti c'è appunto una sorta di cauto scetticismo che ovviamente prende vita, prende forma, si materializza. Vi ringrazio per l'ascolto, cari utenti di YouTube, il video termina qua. E voi cosa pensate? Esistono per voi gli alieni? Esistono per voi questi non identificati? Fatevelo sapere attraverso un commento, iscrivetevi e grazie da parte mia e buon weekend!